Che cosa rappresenta per lei questo premio? Se lo aspettava? Beh, è un riconoscimento per un'operazione che è stata effettivamente piuttosto difficile, quindi aspettarselo no perché queste cose le devono riconoscere gli altri, uno non se le deve aspettare. Però oggettivamente l'operazione ha avuto un livello di complessità e di pressione mediatica tale che forse lo meritava. Che cosa si dice ai tavoli e qual è il clima anche su questa industria? C'è molta competizione. È un'industria che sta cercando in Italia di acquisire managerialità, è stata per anni a pannaggio e lui è ancora in larga parte di famiglie, di grandi mecenati. Adesso comincia ad essere più manageriale e quindi c'è più spazio anche per una maggiore professionalità dal punto di vista legale. È molto interessante ed è molto divertente.